Da 25 anni siamo al fianco delle imprese, per tutte le loro esigenze di natura finanziaria, assistiamo alle imprese in quelli che sono i processi di crescita e di internazionalizzazione. In particolare ci siamo sempre dedicati a trovare delle soluzioni che fossero compatibili con la struttura dell'impresa, le relazioni bancarie e i finanziamenti e i contributi a fondo perduto esistenti per favorire lo sviluppo delle imprese, la creazione di nuovi mercati e l'inserimento delle stesse a livello internazionale. Grazie alle nostre competenze abbiamo sviluppato anche dei software che consentono un'analisi immediata di quella che è la posizione finanziaria dell'impresa e di come verrà letta dal sistema bancario o dagli altri interlocutori che intendono finanziarla. In particolare riusciamo a prevedere prima quelle che saranno le valutazioni e a correggere eventuali bloccanti che possano impedire lo sviluppo dell'impresa. Abbiamo anche dei partner qui a CIBUS insieme a noi che sono specializzati nello sviluppo del mercato americano ed in particolare nell'aiutare le imprese ad affrontare questo importante mercato statunitense, sono Export USA. Abbiamo scelto di partecipare a CIBUS perché riteniamo il mondo agroindustriale e agroalimentare strategico per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Anzi, in modo particolare, le stesse rappresentano uno degli elementi fondamentali del Made in Italy conosciuto in tutte le parti del mondo. Siamo al fianco dei nostri imprenditori per tutte quelle che sono le loro esigenze di natura finanziaria trovando sia soluzioni di tipo bancario che anche soluzioni legate ai contributi comunitari nazionali e regionali. Insieme a questo uniamo all'esperienza dei nostri partner che favoriscono l'inserimento nei mercati esteri. Grazie.